Allora, conosciamo meglio uno dei giudici della tappa per Civitanova Marche, Quintessenza Competition 2018, dici un po' chi sei e opinioni su questa tappa di oggi? Sono Alessandro Castagna e sono grato comunque di aver partecipato come giuria a questa tappa della Quintessenza Competition, il livello comunque è molto alto e ha vinto comunque, cioè il vincitore è stato unanime da parte di tutti i giudici per tecnica, preparazione, presentazione e drink. C'è stato lo spirito Quintessenza quindi? Ma sicuramente sì, era quello che un po' più in giuria ricercavamo nel drink e senza dubbio l'abbiamo trovato nella maggior parte di esso. Un bocca al lupo a tutti per la finale, giusto? Sì, un in bocca al lupo a tutti quanti.